Chi è lo chef della frutta? Molti me lo domandano, perché mi vedono fare tantissime cose. Lo chef della frutta è l'anello di congiunzione che unisce il mondo dell'ortofrutta con il mondo della ristorazione. Li unisce, perché grazie alle competenze che abbiamo acquisito nel corso del tempo, voi considerate che io sono figlio di contadini, quindi sin da piccolo ho vissuto la frutta. Poi ho lavorato in tantissimi settori, sempre nel mondo dell'ortofrutta e della ristorazione. E da qui ho acquisito le conoscenze, l'autorevolezza e la capacità di creare dei servizi nuovi che prima non erano presenti. E quindi noi siamo l'anello di congiunzione che unisce il mondo dell'ortofrutta al mondo della ristorazione. Se da una parte abbiamo delle attività che vogliono migliorare il retail, vogliono migliorare le vendite, dall'altra parte dobbiamo avere più persone che vogliono consumare frutta. Ecco perché, quindi, quando ho creato questa figura, perché mi ritengo di essere il papà di questa figura, professionale, lo chef della frutta, ho deciso di andare in verticale e di specializzarmi solo ed esclusivamente nel mondo frutta. Vedete, per quanto riguarda gli ortaggi, noi abbiamo tantissima conoscenza in Italia, sia da parte di chi vende, sia del consumatore finale che compra. Abbiamo tante di quelle ricette che non basterebbero tutte le biblioteche d'Italia per riunirle, per quanto riguarda il mondo degli ortaggi e delle verdure, ma per quanto riguarda la frutta, in Italia è sempre stata considerata una materia prima povera, è sempre stato considerato un dopopasto, non è stata mai valorizzata tantissimo. E quindi il mio desiderio era non solo quello di valorizzarla, di raccontarla perché la vivo, ma anche quella di incentivarne il consumo. Quindi la parola chef, visto che è una parola molto gettonata in tutti questi anni, rappresenta l'autorevolezza, autorevolezza nel mondo della frutta. Ecco chi è lo chef della frutta.